buonasera ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it mobilitazioni in provincia di varese per tutelare gli ospedali del territorio questa mattina gallarate il capo gruppo di obiettivo comune gallarate massimo gnocchi ha presentato una petizione sovraccomunale per mantenere vivi gli ospedali di gallarate busto arsizio una petizione che come ricorda gnocchi non è né di destra né di sinistra perché dice la salute pubblica non ha un colore politico e sono già in molti i cittadini ma anche i titolari di attività commerciali che hanno deciso di sostenere la raccolta firme in alcuni casi di diventarne promotori l'obiettivo è di raccogliere 5.000 firme entro il mese di settembre mobilitazione anche a saronno sempre per tutelare l'ospedale cittadino vediamo il servizio di roberto banfi le immagini sono di domenico ghiotto di agenzia blitz pd saronnese nella centralissima piazza libertà questa mattina per sostenere il rilancio dell'ospedale cittadino e la campagna regionale del partito democratico contro le liste d'attesa troppo lunghe per la sanità pubblica lombarda molti i cittadini che si sono fermati al gazebo tanti i volantini distribuiti ai passanti nelle vie centrali per l'ospedale di saronno hanno ricordato gli esponenti del pd qualcosa è stato comunque fatto con la copertura dei turni in pronto soccorso che dunque resterà aperto tutta estate l'arrivo di personale per anestesia rianimazione cardiologia e prossimamente rinforzi per traumatologia ed urologia mentre presto saranno attivati i servizi per i cronici fragili alla casa di comunità sabato di incidenti quello di oggi sulle strade della provincia a busto arsizio in via diaz si sono scontrate un'automobile e una motocicletta dopo l'impatto la matiz guidata da una donna di 61 anni si è letteralmente ribaltata in mezzo alla strada più o meno alla stessa ora a saronno in via san michele la suzuki ignis guidata da un uomo di 71 anni si è schiantata contro il muro di una casa in entrambi i casi l'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale ma per fortuna non ci sarebbero feriti gravi e spostiamoci ora a varese dove il comune ha pubblicato un video in cui mostra come sarà il futuro ingresso della città una volta concluso il collegamento di via seleni ce ne parla la collega renata manzoni via seleni un rendering pubblicato sull'account instagram e su quello facebook del sindaco davide galimberti fa il punto su questo peduncolo che è una parte del progetto di quale si è lungamente parlato e aiuta secondo le intenzioni dell'amministrazione a completare l'accesso da sud alla città di varese lo commenta con noi l'assessore lavori pubblici andrea civati spiegando che si tratta di un progetto già esecutivo e che ora gli step futuri riguarderanno i finanziamenti in quanto la regione contribuirà con 800 mila euro ma per arrivare alla somma di 4 milioni e mezzo occorrerà reperire i fondi da parte del comune e a bugugiate c'è un altro cantiere al centro del dibattito cittadino vediamo il servizio di marco di ambrosis le immagini sono di agenzia blitz al via la demolizione di villa martinelli risalente ai prime del novecento al suo posto verranno costruite 13 nuove villette hanno preso il via i lavori di realizzazione di un'area residenziale sulla collina di montalbo un progetto che non piace alle abitanti della zona che si erano già attivati tempo fa con una petizione con cui chiedevano al comune di bloccare la costruzione di questa nuova area residenziale in quanto ritenuta troppo impattante ma l'iter va avanti in ottemperanza alle disposizioni previste dal pgt e malgrado le proteste sfociate anche sui social lo strumento attuativo che ha consentito l'abbattimento della villa è stato studiato e approvato dalle precedenti amministrazioni e l'area privata non comunale chiarisce il sindaco matteo sambo che ricorda che la convenzione con il nuovo proprietario dell'area è stata oggetto di discussione pubblica e tutti gli aspetti critici sono stati ampiamente dibattuti per sambo si tratta di una polemica inutile è chiaro che ognuno ha i suoi gusti ma se un privato vuole costruire delle ville e la legge lo consente ebbene non possiamo cambiare la legge per l'occasione su questa superficie di circa 18 mila metri quadrati di terreno inizialmente si prevedeva la ristrutturazione dell'immobile e la costruzione di solo 3 4 villette mentre il nuovo progetto contempla la diminuzione della villa e la costruzione appunto di 13 nuove villette in lombardia cresce il turismo in particolare sui laghi ce ne parla pasquale martinoli il turismo sui laghi lombardi con lago maggiore in prima fila fa concorrenza alle mete italiane più gettonate come roma e firenze una boutade no la valutazione arriva dall'assessore regionale barbara mazzali che ha diffuso i dati del turismo sui laghi nel primo quattrimestre di quest'anno 767.947 turisti un vero e proprio record col 60 per cento di stranieri in particolare tedeschi la permanenza media passa da due a tre notti l'incremento del turismo sui laghi lombardi del 39 per cento rispetto al 2019 anno pre covid e cresce anche il gradimento dopo il soggiorno 87,4 su 100 un voto eccellente come detto il lago maggiore tra i più apprezzati e la stagione estiva è appena iniziata roma o firenze no per molti meglio la vene luino il gulliver di varese è stato premiato vediamo di che cosa si tratta nel servizio realizzato da adriana morlacchi all'inizio del 2023 il gulliver è stato selezionato all'interno di imprese vincenti il programma di intesa san paolo dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane che ha visto premiare nel segmento del terzo settore dieci organizzazioni non profit un importante riconoscimento per il gulliver a livello nazionale che premia l'intenso lavoro svolto nel 2022 dai dipendenti e collaboratori con il supporto anche dell'associazione amici del gulliver i punti di forza del gulliver sono stimolare il senso di appartenenza la capacità di fare rete tra profit e non profit per il bene comune essere proattivi nelle intercettare e rispondere ai nuovi bisogni nonché la visione sociale e manageriale che punta a ricercare innovazione e qualità e infine lo sport basket confermate le anticipazioni di prealpina nuovo playmaker della pallacanestro varese è vinni shahid vediamo il servizio di giuseppe shasha vinni shahid inaugura la casella delle entrate dell'open john metis versione del 2023 24 ufficiale la firma del playmaker pescato in islanda anticipata oltre due settimane fa da prealpina ma annunciata soltanto nella mattinata di oggi sabato primo luglio per questioni contrattuali giocatore che aveva chiuso comunque il rapporto con il tor la squadra islandese dove era stato capocannoniero oltre 28 punti di media e miglior assistment a quasi 9 giocando un paio di partite in una lega canadese estiva prima della firma con la pallacanestro varese in corrispondenza con la conferma ufficiale di matt brasi con la scadenza dell'nba escape in favore del tecnico di tucson varese si è mossa ufficialmente sul mercato per mettere il primo punto fermo giocatore straniero con qualità offensive spiccate un tiratore più che un penetratore più simile marcus chini il bomber della serie anni due anni fa che aveva portato la salvezza i biancorossi rispetto a colby ross nel bp della lega italiana 2022 23 che invece giocherà la summer league nba con gli uta jets un primo colpo in attesa di provare a definire il ritorno di michael brown che sarebbe davvero il botto di inizio mercato in maniera piuttosto fragorosa questa era l'ultima notizia l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19 una buona serata